Amici Youtube, Pepino Audace, allora ragazzi contribuiamo la carriera Oscar Piastri Andando a farci la gara a casa sua in Australia, a Melbourne E parte in pollo ragazzi, parte in pollo Oscar Piastri con Max Verstappen secondo E Lando Norris terzo per una Super McLaren ragazzi Allora, già come visto nel primo episodio ho rifiutato l'offerta della Mercedes In questo momento sembra Oscar Piastri ancora rinnovare con McLaren Con McLaren, poi vediamo Però credo che Oscar Piastri rimanga ancora importante per questa scuderia di Andrea Stella Benvenuti a Melbourne, sentite anche voi il buato del pubblico sugli spalti qui all'Albert Park Andiamo con la gara Gomme più fresche perché c'è il coperto Andiamo con la combinazione di tratti Le medie E allora Oscar Piastri Max Verstappen Poi Lando Norris, Leclerc, il predestinato, Alonso, Perez Sainz, Hamilton Russell Strull Zunoda, Albon, Ricciardo, Gasly, Magnussen, Hulkenberg L'altro pilota di casa Sergion E volte oggi ho il piacere di essere in compagnia dell'unico e inevitabile Davide Valsecchi Ciao Davide Durante la settimana abbiamo sentito tante indiscrezioni su questo pilota Sceglierà di restare Eccolo ragazzi Oscar Piastri Beh Carlo, ha un legame forte con la sua squideria Si sente a suo agio Ha tutta la squadra dalla sua parte È un fattore importante Sulla carta potrebbe essere più semplice o quanto meno Anche se oggi correrai sulla pista di casa Affrontala come tutte le altre Andiamo con Ragazzi andiamo con gomma media Vediamo Sono tutti con la soft Attenzione subito Norris Ma sbaglia Piastri Sbaglia Piastri Allora Norris Quarto Allora 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 C'è la Norris, di nuovo terzo. C'è la Verstappen, Oscar Piastri, giuro c'è. Un secondo dall'auto davanti. 166 millesimi. Ragazzi, lo conosco a memoria. Oscar Piastri, questo è un'altra cosa. Provo a passare. E passa. Passa, Oscar Piastri. Passa Verstappen, attenzione. Fa attenzione al sottosterzo mentre segui la scia dell'avventura di fronte a te. Cerca di sorpassare al più presto. Dai, forza. Non c'è la Verstappen. 20. Attaccare Verstappen. Piastri, Piastri. Piastri. E passa. Incredibile. Piastri. Che pilota, ragazzi. Piastri. Mamma mia. A decrare che straspinge. Prova! Passa Verstapp e passa Norris Deve mollare i piastri ragazzi Deve mollare i piastri Deve mollare i piastri ragazzi Incredibile i piastri A forza della McLaren FUXIA FUXIA 18-19 21 piastri Già era quinto giro Mania sta andando gli Oscar Già era E' tu là Ok Oscar, dobbiamo lavorare sui tempi sul giro Che al momento sono un po' irregolari Proviamo a renderli più simili Ora Che bravo là, che bravo là Che bravo là, che bravo là Che bravo là sta la panna Lando è ai box Lando, box Box In questo giro, in questo giro, forza Puoi sanziare, Clerco Che bravo là Ricorda di entrare ai box in questo giro Tieni d'occhio quanto dista la linea di limite di velocità all'ingresso della corsia dei box E fai attenzione a non superare il limite Non preoccuparti, devo dire che bravo là Non preoccuparti, devo dire che bravo là Concentriamoci su questo pit stop 2 a 4, buono Ok, non ci dispiace Bene così Andiamo, arriva La strategia di gara è completa Adesso devi finire la corsa Arriva per stop Davanti piastri E' davanti E' davanti Vediamo se le dure Bisogna prendere suzzù Ciao E' davanti Voi 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 prende Joe Sainz Ok Oscar, ora la pista attorno a noi è libera, approfittiamone, facciamo in modo che il prossimo giro sia veloce, forza, avvia Piastri, Stappen, attaccato Norris, è di nuovo sotto, ben fatto, centrato e in pieno, hai raggiunto l'obiettivo, ottimo lavoro, , A presto! Occhio! Passa del stopper! Passa! Ok hai perso una posizione siamo sotto di una Dio! 21! Diziano Morris vicino! Ma ti rende bene l'hard, eh? Mamma mia, per stop! Ma ti rende bene l'hard, eh? No! Attenzione, no risse più vicino! 21! 21! 21! 22! 22! 22! 23! 22! 23! 25! 23! 23! 24! Stappen ha subito il colpo ragazzi Norris 1-2 McLaren 15% di usura 15% di usura Ancora buono il primo settore Bola Oscar Piastri Bota suori Pensione sbaglia piastre 14-15 Attenzione, attenzione Attenzione, bandiera gialla Ok, via libera Pensione sbaglia Norris passa prima fila tutta ultimo giro dai ultimo giro trapanato overstoppen dalle 2 mclaren il piastri seconda vittoria paul vittoria tutto perfetto in australia a casa sua a casa tua resta penimo secondo per ora v bye good job oscar no non ci credo all'ultima curva vince Max Verstappen quarto non ci credo mamma mia che errore ragazzi per Oscar non ci credo ha fatto tutto perfetto quarto vince Max Verstappen peccato peccato all'ultima cura non ci credo ragazzi non ci credo secondo Lanno Loris terzo Alonso quarto Piastri l'errore ragazzi l'errore l'errore ha cercato la vittoria fino in fondo e i suoi sforzi sono stati ripagati hanno ormai un ruolo di primo piano in questo sport quindi è impossibile bisogna rifarsi bisogna rifarsi nel prossimo Gran Premio per Oscar che però comunque rimane il secondo ma ragazzi all'ultima curva si gira all'ultima curva a casa sua e fa vincere Max e oramai era già spacciato e Max va in testa al mondiale Piastri secondo dopo una gara del genere il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro terzo anno Norris vabbè sei punti peccato ragazzi quarto a casa sua voleva vincere la Oscar eh ha sbagliato ragazzi ha sbagliato Oscar ragazzi che rimane un leader di questa squadra rimane un leader ma il problema che ha avuto all'ultima curva ragazzi all'ultima curva vediamo chi eh Red Bull Red Bull Red Bull ragazzi Red Bull Piastri dice no grazie sto bene McLaren sono sempre io ho parlato con un po' di dirigenti sono entusiasti della lealtà che mostri nei confronti della scuderia e del progetto è il momento giusto per chiedere un bonus che so una barca o qualunque cosa piaccia a voi i piloti al di fuori delle macchine Miami ragazzi a Miami sicuramente Piastri farà meglio tutti i nuovi pezzi a fare poi il terzo episodio a Miami bella a tutti e pieno l'utace